buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo oggi rispondo ad una persona di cuba che mi ha scritto questi mail dottore sono triste quasi quasi può essere anche chiamata depressione ho visto un suo video non ce la faccio più a vivere vedo nero la mattina mi sveglio con l'ansia sento un peso al petto non riesco a reggermi in piedi i miei genitori si stanno preoccupando non so cosa fare non amo andare da nessuno perché ho paura di tutte e tutti ma soprattutto perché mi vergogno che qualcuno mi veda in qualche studio e non voglio neanche farlo online perché essendo molto triste e depresso non credo ci sia soluzione cosa mi consiglia cosa posso fare magari da solo senza parlare con nessun essere umano né dal vivo né online mi può dare dei consigli perché mi sento così che succede nella mia vita da qualche tempo sono triste depresso non ho forze mi sento spossato mi sento che la vita non vale la pena di viverla bene rispondo a questo signore di cuba rispondo anche a te che mi ascolti che nella stessa situazione mi trovavo io quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca vicino a milano in quel di modena e ti posso garantire che oggi come oggi dopo due anni di bombardamento mediatico in tutto il mondo a causa della pandemia la paura della morte virus balcini chi più ne ha più ne metta e tutto ciò che la televisione paura o la televisione depressione chiamala come vuoi scarica nelle menti degli esseri umani c'è molta gente bambini adulti anziani che soffrono perché hanno condizionato il subcosciente hanno intriso impregnato come una frisella salentina nell'acqua il subconscio in questo mare di paura a chi giova che la gente abbia paura che sia depressa che veda nero che sia malinconica chiamalo come vuoi che veda nero nel domani a chi giova ricordati una cosa più una persona è debole più è manipolabile ok se noti in tv in tutte le lingue c'è un pensiero comune una linea comune il pastore che spaventa il grece che spaventa la selvaggina che spaventa il branco perché perché lo vuole incanalare dove vuole magari per manipolarlo fargli fare tutto ciò che vuole vendergli quello che desidera e compagnia bella ci sta ma non va bene per cui questo signore di cuba che ha depressione la colpa certamente non è sua la colpa dei mass media mondiali mondiali anche quelli che si spacciano contrari al sistema che continuano a seminare paura perché la paura è trasversale non è di destra né di sinistra non è bionda non è nera è paura cosa si può fare se una persona come questo signore di cuba non vuole vedere persone né dal vivo né né in presenza scaricarsi un audio mp3 dcs un vero e proprio capolavoro dell'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo dal titolo no depressione no tristezza cronica seguire le istruzioni molto facile alla prova di un nonno alla prova di un idiota la prova di un pigro buttare via il tempo e meravigliarsi del potere del proprio subcosciente una volta che finisce è magico la magia della tua mente in questi audio mp3 dcs dal titolo no depressione ci sono parole semplici pulite trasparenti naturali comprensibili però parole dcs create ad hoc create ad arte testate su migliaia e migliaia di persone in quasi un secolo di un antico sapere da due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola il professor dottor michelangel grai la dottoressa rina brunini miei maestri miei mentori miei associati i miei amici per l'eternità io ci ho messo un 30 40 per cento perché mi ipnotizzo h24 dal 2008 ad oggi da più di 12 anni e perché lo faccio perché mi sento al settimo cielo vivo bene mi sento bene è sparito tutto ciò che di negativo albergava nella mia anima come depressione tristezza ansia preso al petto mal di testa cronico sfiducia insicurezza timidezza chiamale come vuoi ok per cui caro amico cara amica soltanto a te la scelta di ciò che vuoi fare della tua vita perché la mia mission non è quella di vendere audio mp13s la mia mission è quella di diffondere a più gente possibile le mie esperienze dirette e indirette finché sono vivo su questa terra poi ai posteri largo sentenza ma ti posso garantire che pochi o nessuno parla di ciò che hai dentro di te dove c'è la causa e la soluzione di ogni tuo problema dimmi cosa ne pensi su questo video commenta mandami degli input delle domande ti aiuterò a risolvere tutti i tuoi dubbi ponimi anche altre questioni se può questioni io posso anche risponderti approfondire insieme a te gratis tutto ciò che desideri visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi avuto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti su questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e faccia il condividi con amici e parenti perché può essere quel guida quella molla che gli può ti può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino un bacio e un abbraccio amico mia amica mia e alla prossima dal dottor claudio saracino la tua ciao